Sono una persona che ama quello che fa, soprattutto ha la fortuna di fare un mestiere artigianale, dove prevalentemente si utilizzano le mani, si utilizza il palato oltre che la testa. Mi piace essere definito come il cuoco pop, dove metto nella cucina tutto quello che è accessibile e più pop possibile. Questa collezione OVS Davide Oldani è nata da un'idea condivisa. Abbiamo deciso di fare, assieme a OVS, questo progetto dove si possa avere del bello quando si è a casa, che si è in cucina o si servono degli amici e dove ci sia anche il buono dettato dal fatto di dare delle ricette e di dare anche un abbigliamento che completi e che chiude un cerchio. Nella tavola del Natale non può mancare la convivialità, non deve esserci troppo cibo per avanzarlo, quindi giusto cibo che poi ci fa anche star bene e poi tutti questi piccoli accessori che hanno un po' di allegria, un po' di colore e un po' di benessere. Grazie. 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 Grazie.